Ciao a tutti, come conquistare e farti cercare da chi ti interessa? Tieni presente che l'errore, uno degli errori più gravi che fanno le persone è quello di sperare che le altre persone, che chi gli interessa, sia disponibile se tu ti metti lì e lo chiami, fai il pressing e dove sei e cosa fai? Ti desidero e ti amo e ti voglio, non è così! Più tu vai a dire ti amo, ti desidero, ti voglio, più verrai fatto rimbalzare, più l'altra persona non ti prenderà nemmeno in considerazione, non si renderà neanche conto praticamente della tua esistenza. L'unico modo per riuscire a conquistare è quello di stimolare il desiderio. Se tu desideri qualcosa la cerchi, è inutile che stai lì a dire non mi cerchi per questo e per quest'altro motivo. Se non ti cerchi perché non ti desidera, devi imparare a farti cercare tu, devi diventare un polo di attrazione, devi riuscire a catalizzare tutte le sue emozioni, a diventare un bersaglio emozionale. E come far a fare questo? Bene, andando ad amplificare tutti i suoi turbamenti, andando a capire quali sono le emozioni più profonde che ha compresse. Perché ognuno di noi ha delle emozioni compresse, che sono state quelle compresse a suo tempo. Se tu riesci a scoprire dove si annidano e quali sono queste emozioni compresse, riesci attraverso il tuo comportamento ad amplificarli. E quindi erogherai un servizio, finalmente un servizio emotivo, alla sua parte emotiva smetterai di fare lo zerbino, di fare la zerbina e andrai a essere identificato come un erogatore di tensione emozionale. Quindi la persona si coinvolgerà, si innamorerà. Come fare a fare tutto questo? Quindi per erogare le tensioni emozionali. Allora, devi capire, ripeto, quali sono i turbamenti vissuti dalla persona. Tutti quelli che hanno vissuto l'abbandono sono molto sensibili all'abbandono. Anche se, ovviamente, un minimo di potenziale devi averlo, ma è molto semplice acquisire un minimo di potenziale. Io inizio a darti delle cose senza che tu mi chiedi. Ti faccio, inizio a farti love bombing, inizio a metterti al centro dell'attenzione, inizio a dirti che sei la più bella, il più bello, insomma, che sei una persona molto interessante, eccetera, eccetera. Ti faccio love bombing per un po', poi te lo tolgo, punto. Non te lo faccio più, sparisco. Allora, anche se non ti interessavo prima, ma se tu vivi l'abbandono, te lo vivrai comunque l'abbandono, perché ti ho creato un'abitudine. Ti ho creato un'abitudine e quando ti tolgo l'abitudine, tu sei coinvolta, tu sei coinvolto. Devo prima capire se ovviamente se l'abbandono, l'emozione è quella fondamentale. Beh, basta un po' capirlo indirettamente, se ti racconta delle cose, perché di solito quando poi le persone parlano, ti raccontano, sono stato abbandonato da questa, abbandonato da quella, mi ha seguito o inseguito, magari non ti dice, però ti racconto. Oppure se non ti racconta, provi tu a parlare di abbandono. Ne vedi, se sull'abbandono esprimo un segnale di gradimento emotivo. Se sull'abbandono, se vuoi sapere quali sono i segnali di gradimento emotivo, vatti a vedere i video dove parlo di segnali di gradimento emotivo. Se noti che sul gradimento emotivo la persona ti dà un gradimento, se noti sull'abbandono la persona ti dà un gradimento, significa che quella è il segnale. Quello è l'emozione che devi fargli vivere. Quindi prima love bombing e poi sparire per riuscire a coinvolgere. Poi ci sono altre emozioni che si possono dare di varia natura. Le emozioni sono tantissime. Sei una persona, non lo so, già basta le volte un film horror a dare emozioni, un film d'amore. Pensa a te, una persona che è vissuta l'abbandono, ha anche una canzone e vai in macchina e gli ficchi, come si chiama, cinque giorni che ti ho perso. La metti in macchina apposta. Quella magari è stata appena lasciata. Gli dai subito quell'emozione, piange e però, come dire, ti identifica come un erogatore di emozioni. Cinque giorni che ti ho perso, oppure ha problemi con la mamma, metti la canzone mamma, mormora la bambina, che ne so, qualcosa del genere. Basta una canzone, basta un film. Tu devi semplicemente andare a riprodurre tutto quello che serve per dare attenzione emozionale. In questo modo vedrai che la clessidra si trasformerà e quella persona lì inizierà a cercarti, inizierà a desiderarti, a voler stare con te, non tanto perché poi a livello logico gli piace, perché magari a livello logico non gli piace neanche, ma inizierà a cercarti perché gli piace a livello analogico, perché gli piace a livello emotivo, perché a livello emotivo gli dai le giuste tensioni, riesci a coinvolgere, riesci a far vivere un quid emozionale importante. E questo è quello che significa sedurre, che significa coinvolgere. Smetti di chiedere, smetti di dimostrarti zerbino o zerbina che vai lì a implorare o a pretendere l'amore, perché l'amore non puoi né implorarlo né pretendere. L'amore va conquistato e quindi devi imparare a conquistare. L'unico modo è conquistare e quindi per conquistare devi diventare il fabbisogno emotivo, il cibo emotivo per la persona. In questo modo riuscirai ad avere successo e conquistare la persona che desideri. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscriviti al canale, tassativo, metti un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!